Musica Venerdì 17 giugno, buongiorno, benvenuti al nostro Tg del mattino. Trasferimento della chirurgia vascolare dal Cardarelli alla Cattolica e polemica sul decreto firmato dal commissario ad acta frattura. Il documento presenta gravi lacune e soprattutto non chiarisce ruoli e responsabilità della struttura privata, peraltro non accreditata per tale disciplina. Un pasticcio giuridico e tecnico, quello delineato da frattura, che aumenta la preoccupazione e lo sconcerto tra i cittadini, sentiamo Pasquale Di Bello. Il trasferimento dell'unità operativa di chirurgia vascolare dal Cardarelli di Campobasso alla Vicina Cattolica, oltre che un pasticcio giuridico, potrebbe diventare anche un giallo, qualora in caso di esito letale di un intervento dovesse scatenarsi la caccia alle responsabilità. La domanda è semplice e se la stanno facendo in molti. In caso di incidente, prima, durante e dopo un intervento, chi ne risponde? E inoltre, chi sarà ad operare concretamente? I chirurghi della Cattolica o quelli del Cardarelli? O insieme tra loro? Se la domanda è semplice, la risposta diventa difficilissima, soprattutto in ragione di una ulteriore considerazione. Scorrendo l'elenco delle discipline accreditate presso la Cattolica, non si rinviene quella della chirurgia vascolare. L'attuale fondazione Giovanni Paolo II parrebbe quindi non accreditata per tale materia e non sulla base di suggestioni o supposizioni, ma secondo il dettato del decreto commissariale numero 21 del 30 giugno 2011, che ne dispone appunto l'accreditamento. A meno che qualcuno in regione, all'Asrem o presso la struttura commissariale, non intenda far rientrare la chirurgia vascolare nella chirurgia dei grossi vasi, che è tutt'altra cosa. Una toppa, se così fosse, peggiore del buco, che si pretende di chiudere. Detto questo, nonostante il trasferimento, permangono inalterate le criticità legate all'urgenza, poiché su tale tema il decreto frattura non dice nulla, riferendosi agli interventi di ordinaria amministrazione, ovvero a quelli programmabili. Per l'urgenza bisognerà fare ricorso alle strutture delle regioni limitrofe, poste a qualche centinaio di chilometri, sempre che ci si arrivi da vivi e non da morti. Infine una considerazione conclusiva. Con un pessimo gerundio mutuato da altrettanti pessimi e tesi rapporti con la lingua italiana, i burocrati della struttura commissariale hanno messo nero su bianco la seguente affermazione. Il trasferimento della chirurgia vascolare dal Cardarelli alla Cattolica avverrebbe testuali parole secondo le previsioni dell'approvando programma operativo. Bene, il piano elaborato da frattura approvando o non approvando sulla questione non dice una sola parola e di tale trasferimento non vi è traccia. A meno che, facendo leva sul blocco delle assunzioni, come in questo caso, non si faccia altrettanto per ogni disciplina e si finisca di questo passo trasferendo, trasferendo, per trasferire tutto il Cardarelli alla Cattolica. Dagli ultimi dati del Ministero dell'Interno risulta che nel 2015 in provincia di Campobasso sono diminuiti sia i provvedimenti di sfratto emessi, 24 in meno, sia gli sfratti eseguiti, 35 in meno. Lo ha riportato in una nota con fedilizia del capoluogo. Made in Italy è il titolo della mostra di Leonardo Pappone all'Università Campobasso, sarà visitabile fino al 9 settembre. Sentiamo. Il filo conduttore e la bandiera italiana caratterizza le opere di Leonardo Pappone esposte all'Università Campobasso, al secondo edificio polifunzionale in via De Santis. La mostra, dal titolo Made in Italy, sarà visitabile fino al 9 settembre. Installazioni, sculture, quadri, lavori, quelli di Pappone, presentati dall'Archivio delle Arti Elettroniche Laboratorio per l'Arte Contemporanea dell'Ateneo. Una personale curata dal docente Lorenzo Canova e dal critico d'arte Pier Nicola Maria Diorio. Opere che vogliono essere una riflessione all'indomani del settantesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana, uno sguardo sulle difficoltà del paese. L'arte come denuncia sociale, ma anche come celebrazione della bellezza e l'eccellenza italiana, senza cadere nel nazionalismo. Questa mostra è partita in maniera di tutto casuale, diciamo quasi con un rinvenimento. Quando a Napoli l'anno scorso trovai vicino a un castonetto dell'immondizia quell'opera lì, Giulio Cesare poi, che era un busto senza testa, abbandonato e che dovetti recuperare facendo quasi a gara con degli stranieri che stavano loro anche facendo quest'opera di recupero. Da questo recupero è partita in me la voglia di dire non possiamo essere un popolo che abbiamo tante bellezze artistiche, culturali, archeologiche e lasciarle deturpate, cioè lasciarle così per terra. E quindi diciamo in questo è venuto fuori una forma di orgoglio e poi mettere su un discorso che avesse a che fare, che avesse come protagonista il tricolore, ma in senso critico. Cioè noi in Italia abbiamo tante cose belle, tante cose valide, ma che a volte non sappiamo valorizzare né preservare. Una mostra che si vuole portare anche all'estero elementi polimaterici e l'utilizzo di materiali di riciclo ne sono caratteristiche. L'autore vuole dire che ognuno può e deve fare qualcosa per tenere insieme questo paese e combattere le negatività che lo affliggono. La riflessione dove, in modo anche ironico, mette in luce alcuni guai, alcuni disastri, alcune problematiche che affliggono proprio l'Italia. Quindi il Made in Italy visto come una speranza, ma anche come qualcosa da far rinascere in un momento di grande difficoltà e anche come una sorta di denuncia contro coloro che in qualche modo danneggiano il paese in tanti modi. Non si parla di campanilismo, ma si parla di un legame affettivo che lui necessariamente fa sfociare nella tela e in particolar modo appunto con i colori del tricolore, il bianco, il rosso e il verde, che sono il racconto della sua terra. E' tutto per la nostra informazione, adesso la rassegna stampa. Con Donato Mignogna in regia vediamo come titola il giornale del Molise.it. Chirurgia vascolare in cattolica manca l'accreditamento, in caso di errore chi paga il pubblico o il privato è l'articolo a firma di Pasquale Di Bello. A IDS il Molise approva il percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale, poi Conca Casale rinnova la fiducia al sindaco Luciano Bucci. Carabinieri il Maggiore Nichilo lascia Termoli, è stato trasferito a Lecce. Campobasso la manifestazione chi copia copiasse all'esame non si passa. Poi Termoli centro revisioni distrutto nella notte da un incendio, scintilla partita da una batteria. Pietra Catella, Frana, Fondovalle e Tappino finanziato l'intervento. No al carcere per i giornalisti, sit-in a Roma di informazione libera. Da Agnone furti nelle case e nei negozi, quattro persone denunciate dai carabinieri. Comando regionale dei carabinieri Iorio, da Roma ennesimo taglio. E poi al via l'operazione Mare Sicuro sulle coste italiane, pronti 3.000 uomini e 300 mezzi navali. Ci sono poi le altre notizie del giornale del Molise, dalla regione, dall'Italia e dal mondo. Ci sono poi editoriali, idee e opinioni. Vediamo adesso come titola a primo piano Molise Sagem. 150 riassunzioni per un pollo ruspante. Parte una nuova stagione per lo stabilimento di Boiano. Non si esclude una joint venture con AIA. Prima indiscrezioni sul progetto della cooperativa abruzzese per rilanciare la filiera avicola. Buona la reazione dei sindacati. L'offerta è un fatto positivo, ma ora dobbiamo capire, dicono. Parla l'ex capo della sicurezza di Papa Voitila. Il prefetto Marinelli pronto a riferire in commissione sul caso Moro. Accuse infamanti. Mi difenderò fino in fondo. Altra notizia. In taglio alto Palazzo San Giorgio, la comune di Campobasso. Bilancio. Il sindaco Battista conforta i contribuenti. Nessun aumento delle tasse. Da Termoli, zuccherificio, ore decisive per la Nuco. Il Tribunale vaglia se concedere il concordato. Campobasso lo shopping conveniente. Saldi in Molise al via dal 7 luglio. E poi Furgone cerca di attraversare i binari. Mentre si abbassano le sbarre. L'impatto col treno è inevitabile. San Polo Matese, convoglio fermo per due ore a San Polo Matese. Tanto spavento, ma nessun contuso. Poi Termoli, rogo al centro revisioni. In fiamme pure le imbarcazioni della MCM Nautica. Almeno 200 mila euro i danni. Vediamo ancora le altre notizie. Venafro e la festa di San Nicandro. Stasera Giussi Ferreri in concerto. Apparentamenti mancati a Isernia. Bagarra la vigilia del ballottaggio. Stasera gli ultimi appelli al voto. Il generale D'Apollonio chiuderà in piazza Celestino Quinto alle 19. Alle 22 invece il comizio di Melogli. Notizie dall'Abruzzo. Da vasto tour di Desiati nei luoghi più critici della città. E Men annuncia altri due assessori. Per quanto riguarda le notizie di sport. Petrella, bilancio, ok ma la violenza è una piaga. Il presidente regionale degli arbitri di calcio. Finora soluzioni tampone. Ci aiutino le squadre, dice. Serie D, calcio, lupi nell'alto sangro. È possibile giocare amichevoli contro club di A? Dagnone, il progetto per lo stadio è pronto. Si attende solo il finanziamento. Passiamo adesso a vedere il quotidiano del Molise. Al ballottaggio fra le polemiche. Apparentamenti botta e risposta fra testa Papa e Tiberio. Stasera i comizi finali. Isernia tiene banco dunque la questione dell'8-0. Il comitato presenterà un'istanza al futuro sindaco. Per quanto riguarda le altre notizie, in taglio alto termoli dipendenti. GTM celebrano la morte dello stipendio. Commercio saldi, la corsa all'affare parte il 7 luglio e i saldi estivi termineranno il 10 settembre. Poi dalla regione incentivi a chi converte l'auto in GPL o metano, a chi converte l'impianto con tributo di 500 euro. Sanità sia il percorso diagnostico per i malati di AIDS. Termoli va a fuoco un'officina, poi crolla pure il solaio. Campobasso rapina in farmacia, preso l'autore. La squadra mobile ha denunciato un giovane del posto. Per quanto riguarda le notizie sportive, calcio, serie D. Lupi in ritiro possibile, amichevole col Pescara. Pifano invece giura fedeltà all'Olimpia agnonese. Vediamo adesso la gazzetta del Molise come titola. Campobasso, 16 consiglieri votano il bilancio e si riapre la lotta per un assessorato. AAA cercasi maggioranza. È il titolo in evidenza. Poi troppi civici, un ritorno ai partiti veri. Il contributo a firma di Giuseppe Saluppo da Termoli. Quarto sciopero alla GTM. Poi ferrovie, linee arcaiche, treni vecchi per un sistema ferroviario che non è più al passo con i tempi. L'Oscar del giorno, la gazzetta del Molise, lo assegna a Sabino e a Figliola, mentre il tapiro del giorno ad Elio Madonna. Vediamo adesso come titola Futuro Molise. Tragedia sfiorata tra Boiane e Guardiareggia, treno contro furgone, nessun ferito. Le promesse di Saladino mantenute anche per la piscina. A Isernia speriamo di non dover rimpiangere con l'avvento del nuovo sindaco e della politica di sempre, scrive Futuro Molise. Taglia la sicurezza, Movimento 5 Stelle, la maggioranza recita, il territorio muore. Poi Fornelli, primo comune in Italia a promuovere un'iniziativa innovativa, arrivano i giornali nei locali pubblici e nelle sale attesa grazie al progetto Tido Day News. E poi Venafro, il consigliere regionale Scarabeo, sul futuro dell'ospedale Santissimo Rosario, ridare ai cittadini quanto sottratto indebitamente da un piano di razionalizzazione finalizzato solo a incrementare la sanità privata. E poi ci sono le altre notizie su Futuro Molise. I quotidiani nazionali adesso partiamo con la Repubblica Brexit. sangue sul referendum, uccisa la donna simbolo del labur. La deputata Joe Cox era impegnata anche sui migranti. L'assassino grida prima la Gran Bretagna. E c'è poi questa foto notizia con la deputata laburista appunto Joe Cox in una foto pubblicata sul suo profilo Facebook. L'analisi, l'Europa della paura e i politici sonnambuli. Popolare di Vicenza, BCE, vertici, colpevoli, risparmiatore, suicida. Il fuoco a sedia a Palermo, atti dolosi e criminali, chiusi scuole, aeroporto e autostrada. Passiamo adesso a vedere il Corriere della Sera. Anche qui questa notizia in evidenza sangue sulla campagna anti-Brexit. Uccisa la deputata europeista Cox, preso un uomo, gridava slogan nazionalistico, mizi sospesi, aggressione vicino a Leeds. Con pistola e coltello la parlamentare aveva due figli piccoli. Cameron dice una tragedia. Il veleno dell'odio di Beppe Severnini è l'articolo e c'è poi dopo la foto della Cox. Tra i combattenti a Sirte, l'Isis qui non fa prigionieri. Il reportage dalla città libica. Passiamo adesso a vedere come titola il fatto quotidiano. Le banche uccidono ancora Vicenza, un pensionato di 69 anni. Si spara, aveva perso 400 mila euro di risparmi. Con il crollo delle azioni il suo gruzzolo si era ridotto a soli 779 euro. Con quei soldi voleva pagarsi le cure mediche. Il fratello accusa l'istituto di credito dell'ex patron Zonin. È colpa loro. Se è finita così sono peggio dei mafiosi. Il virgolettato è poi Brexit, il sangue sul voto. Uccisa deputata pro euro. Continente in guerra, i salari e il commercio. Malmström, Unione Europea. Nessun voto sul trip, ma è democrazia. Martinez, Parigi, Hollande. Cambi il lavoro, noi cambieremo lui. Passiamo adesso a vedere come titola la stampa di Torino. Anche qui Londra, sangue sul referendum. Uccisa deputata laburista anti-Brexit. Il killer le ha urlato prima. La Gran Bretagna impegnata ad aiutare gli immigrati. Raggiunta da colpi di pistola e accoltellata. Sospesa la campagna elettorale. Ci sono poi vari approfondimenti. Roghi e Scirocco. Il fuoco a sedia a Palermo. Incendi dolosi in tutta la Sicilia. Evacuate case scuole. All'iscafo contro il molo. Panico a Stromboli. E c'è questa foto. Vediamo adesso come titola Libero. Sindacati fuori di testa vogliono più immigrati. In mancanza di iscritti programmano di pareggiare i conti. Importando milioni di stranieri. Uccise in Inghilterra perché tifa Unione Europea. Delitto politico. Deputata pugnalata al grido. Prima la Gran Bretagna. Il killer pazzo non è il sole inglese che pensa che l'Unione l'abbia impoverito e riempito di stranieri. Ho scoperto che Bossetti è innocente e non dormo la notte. Il titolo è invirgolettato. I tormenti di Roberto Bianco. Cervello del pool difensivo del muratore. L'articolo è a firma di Luca Telese. Ovviamente si parla dell'uccisione di Iara Gambirasio e del processo a Bossetti. Vediamo adesso come titola il tempo. Brogli e cerchio magico. Ecco la verità. Parla Giorgia Meloni. Amministrative vergognose. Il ballottaggio a Roma andrebbe rinviato. Il futuro del centrodestra. Al Cavaliere faccio gli auguri. Guarisca poi parleremo. È mal consigliato. Così dice. Poi agenti e pompieri con divise usa e getta. Si restringono. Sono cuciti al contrario. E si possono lavorare solo una volta al mese. Dal tempo passiamo a vedere come titola il manifesto. Union Joe è il titolo. In una Gran Bretagna sempre più divisa su tutto. Si unisce nel cordoglio per la morte di Joe Cox. 41enne deputata laburista. Impegnata nell'accoglienza dei profughi e per il Remain. Uccisa, coltellate e colpi di pistola da un uomo di 52 anni. Subito arrestato dalla polizia. Sospesa per lutto la durissima campagna referendaria. Poi si parla delle elezioni a Roma. Del ballottaggio. L'aggiunta dei miraggi. Gioco di parole. Super Movimento 5 Stelle ai ballottaggi. Vediamo dal manifesto. Passiamo al mattino di Napoli. Sangue su Brexit. Uccisa. Deputata. Anche qui c'è dunque questa notizia in evidenza. L'indiziato Tommy disoccupato e solitario con simpatie di estrema destra. Ballottaggio a Napoli. De Magistris Lettieri. Promesse e veleni in piazza. Il messaggero. Sangue sul Brexit. Uccisa. Deputata. E qui questa notizia. Un assassino dalla vita invisibile. Mistero tra estremismo. E farmaci. Poi caso Scioperi. Atac. Raggi con gli autisti. L'altolà del governo. Un italiano su due teme. L'addio di Londra. Ma uno su tre vorrebbe lasciare l'Unione. Sondaggio per il messaggero. E dal messaggero passiamo ad avvenire. Deserto d'umanità. Morti di sete nel Sahara. 34 migranti. 20 bimbi in una settimana. Salvate in mare. 13 mila persone. I profughi nigeriani traditi dai trafficanti al confine tra Nigeria e Algeria. A Roma altri 81 arrivi sicuri grazie ai corridoi umanitari. Poi il Papa al convegno diocesano di Roma accogliere le famiglie vere. Non quelle che vorremmo. Vediamo adesso il sole 24 ore. Brexit corsa ai beni in rifugio. Oro ai massimi da due anni. A 1.315,5 dollari. A 1.315,5 dollari. Bund ai minimi. Spread a quota 157. Dopo l'agguato in Inghilterra. La deputata, la burista e i listini limitano le perdite. Piazza Affari chiude a meno 0,98%. E poi Eurogruppo frena le pensioni anticipate. Documento con i criteri di sostenibilità per tutti i paesi. Padoan. Il ministro Padoan dice non smontiamo le riforme fatte bene. Passiamo adesso al secolo d'Italia. Anche qui titolo in evidenza. Sangue sulla Brexit. E dunque si parla della morte della deputata britannica, la burista Joe Cox. Dal secolo d'Italia alla gazzetta dello sport. Non ci fai paura. È il titolo in evidenza. Dopo il super esordio gli azzurri ci riprovano. Ibra. Ibraimovic fatti sotto. L'Italia vuole gli ottavi. Qualificazione sicura con una vittoria. Conte dice Zlatan sposta gli equilibri ma noi abbiamo il fuoco dentro. E vi spieghiamo come si può fermare appunto Ibraimovic. A Tolosa si gioca alle 15 il match Italia-Svezia di Euro 2016. La seconda partita della fase a Gironi. Il CT prepara un solo cambio. Florenzi è favorito su Darmian. Ucraina eliminata. Müller e Lewandowski meglio le difese. Germania-Polonia finisce 0-0. Il derby britannico invece l'invincibile Vardy entra e risveglia. L'Inghilterra Bale sinchina al 92esimo. Poi gli assi Juve. Pogba che bufera attorno all'ombrello. Morata contatto Chelsea. E con la gazzetta dello sport termina la nostra rassegna stampa. Prossimo appuntamento con l'informazione di Telemolise. Come sempre in diretta alle 14 con il Tg. Grazie per averci seguito. Buona giornata. Buona giornata. Grazie a tutti.